salve a tutti salve a tutti i spettatori al canale tatuncio io sono vlatko e per la seconda volta ho il piacere di fare la chiacchierata con andrea cionci come abbiamo detto la volta scorsa giornalista storico d'arte e ricercatore noto per la questione del codice ratzinger l'argomento su cui lui ha scritto anche un libro e giorni o oggi facciamo facciamo la chiacchierata su gli aggiornamenti di questa faccenda perché della mia profonda convinzione la questione non è ancora chiusa buonasera andrea benvenuto sul canale tatuncio buonasera vlatko un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori grazie per l'ospitalità ripetiamo come la volta scorsa anche per quelli che ci vedono per la prima volta che andrea non appare in video per motivi che adesso non andiamo a ripetere ci sono del primo video quindi vedrete solo me magari qualche qualche foto di quello che parliamo adesso andrea io ho visto una una foto interessante sul tuo profilo facebook è una cavalleria che porta lo scudo del papa benedetto sedicesimo mi puoi spiegare un attimo il simbolismo di questa foto sì beh un richiamo a questa che è una vera e propria guerra di tipo medievale nel senso che nella storia della chiesa ci sono stati 40 antipapi e i cattolici si sono sempre divisi per il papa o l'antipapa a volte non avevano né idee chiare nemmeno dei santi tanto che mentre santa caterina da siena teneva per il vero papa san vincenzo ferreri naturalmente inconsapevole era invece dalla parte di un antipapa quindi fa parte della tradizione della chiesa questo scontro anche fra cattolici per assicurare sul trono di san pietro un vero pontefice legittimamente eletto ecco questa è una una questione fondamentale perché solamente a un papa legittimamente eletto in ottica di fede dio stesso concede il cosiddetto monos petrino cioè quel dono quell'essenza spirituale che garantisce il pontefice come successore di san pietro e come custode del deposito della fede ecco io come sai vladco mi sono occupato per tre anni negli ultimi tre anni in modo continuativo dello studio delle dimissioni di papa benedetto di questo vero e proprio mistero un garbuglio che con pazienza e con l'aiuto di tanti specialisti latinisti storici della chiesa giuristi psicologi del linguaggio eccetera ho pubblicato codice ratzinger un volume che ha avvenuto 20 mila copie e che proprio l'altro giorno ha ricevuto il secondo premio il primo lo aveva ricevuto a luglio per il giornalismo il secondo invece di qualche giorno fa per la saggistica tutte e due forniti da enti prestigiosi eccetera e di che cosa si tratta cosa ha messo a punto la mia inchiesta che papa benedetto non ha mai abdicato non ha mai rinunciato al trono lui ha fatto in modo che i suoi nemici cioè i poteri forti globalisti il clan obama clinton la massoneria internazionale e a livello interno nella chiesa il partito di cardinali opposto al suo la cosiddetta mafia di sangallo tutti i prelati ultramodernisti in odore di massoneria ecclesiastica che già nel 2005 proponevano come loro candidato orge mario bergoglio insomma lui pressato a togliersi di mezzo da questi nemici ha messo in pratica un raffinatissimo congegno anti usurpazione che era pronto da almeno 30 anni dal 1983 ecco nel libro ultime conversazioni da lui scritto insieme al giornalista tedesco peter sevald si apprende che nel 1983 giovanni paolo secondo reduce dall'attentato subito due anni prima gli dà il mandato di produrre una nuova edizione del diritto canonico con nuove forme e nuove strutture giuridiche per commissionare per per sanzionare con grosse punizioni dei non meglio specificati scandali una non meglio specificata sporcizia perché lui dice sì nella chiesa c'è una sporcizia che cosa nota che quella della pedofilia eccetera ma ci sono altre cose che lui non ha specificato ecco questo questa acquisizione avviene proprio nei giorni in cui un sacerdote americano di nome è charles theodore moore pubblica un suo libro che si chiama massoneria vaticana questo padre moore era l'assistente del cardinale gagnon il quale ricevette quando era ancora monsignore ricevette da paolo sesto l'incarico di fare un'indagine sulla massoneria ecclesiastica gagnon fece un'inchiesta molto approfondita e scoprì delle cose tremende tipo che il segretario di stato io era massone o contigua la massoneria e così erano massoni anche importantissimi cardinali come baggio e altri però dovete aspettare fino a giovanni paolo secondo per poter presentare questo dossier perché paolo sesto morì dopo poco tempo che lui aveva terminato questa inchiesta giovanni paolo primo come sapete visse solamente qualche settimana esatto e quindi giovanni paolo secondo apparentemente quando acquisì questo dossier non fece nulla apparentemente apparentemente ma noi sappiamo dal libro di benedetto xvi che proprio in quel periodo papa voitiva commissionò a cardinale ratzinger di provvedere dotando il diritto canonico di nuove forme strutture giuridiche e così si è creato questo congegno anti usurpazione con questa distinzione fra munus e ministerium fra il titolo di origine divina l'essere papa il munus e il ministerium la possibilità di fare il papa che discende dal fatto di avere il titolo spirituale un po la stessa differenza che passa fra la patente di guida e la facoltà di circolare in automobile solo se uno ha la patente può guidare la macchina e però se uno decide di non guidare la macchina non per questo gli viene ritirata la patente giusto esatto e così proprio giocando sul fatto che papa benedetto traduce in italiano nelle altre lingue volgari la parola munus e ministerium con una stessa parola ministero lui ha teso una trappola per così dire o meglio ha indotto in tentazione nel senso del padre nostro cioè ha messo alla prova i suoi nemici i cardinali della cosiddetta mafia di sangallo perché come si articola questo piano è molto semplice se il papa rinuncia al munus ha abdicato come prevede il carone 332.2 che richiede appunto la rinuncia al munus petrino se invece il papa perde il ministerium si verifica il caso della sede impedita quella particolare situazione in cui il papa è prigioniero confinato esiliato non è libero di esprimersi ora se un conclave viene convocato mentre il papa non è morto non è regolarmente abdicatario ma impedito il conclave elegge un antipapa e come sempre avviene nella storia della chiesa gli antipapi vengono annullati tutto quello che loro hanno fatto viene cancellato dall'inizio alla fine chiaramente papa benedetto ha voluto che questo che questa situazione emergesse lentamente nel tempo in modo che la chiesa antagonista una chiesa che è passata in blocco all'agnosi cioè una visione del cristianesimo completamente rovesciata in cui tanto per dirvene una il serpente non è il demonio tentatore ma è un di liberatore che svela all'uomo di essere dio e gli stessi cioè ci troviamo proprio dalla parte del diavolo ha dato modo a questa falsa chiesa anticristica di uscire alla luce di governare di manifestarsi nelle sue intenzioni inversive della fede ora come si conclude questo piano anti usurpazione io stesso ho scoperto che nella costituzione apostolica universi domenici gregis ci sono tre articoli fondamentali il numero 3 dice che i cardinali hanno il dovere di intervenire per tutelare i diritti della sede apostolica e di non lasciarli decadere il combinato disposto fra gli articoli 76 e 77 sintetizzo ci dice che se la vacanza della sede per rinuncia del sommo pontefice non è avvenuta a norma del canone 332.2 quello appunto in cui richiesta la rinuncia al munus petrino l'elezione che ne consegue è nulla invalida la persona eletta non ha alcun diritto senza che occorra una dichiarazione in proposito e da qui da qui la mia iniziativa nata il 23 ottobre scorso cioè quella di una petizione in cui si chiede appunto ai cardinali autentici di nomina pre 2013 quelli nominati dai veri papi da benedetto o da giovanni paolo secondo di dichiarare che il papa è morto riconoscendo la sede impedita di benedetto sedicesimo e di procedere alla convocazione del conclave e bergoglio forse protesterà ma purtroppo la costituzione apostolica universi dominici gregis parla chiarissimo questa petizione ha raccolto 11.500 firme in meno di due settimane e l'otto novembre scorso nel giorno di santa maria della vittoria io stesso insieme al giudice antimafia angelo giorgiani e agli avvocati panetta e bozzelli dell'associazione di avvocati arbitrium abbiamo inviato alla segreteria di stato queste 11.500 firme la cosa importante è che questa petizione nel suo primo invio ha il valore giuridico di un esposto di una denuncia è come andare dalla polizia e fare una denuncia quindi da questo momento tutti i cardinali che sono stati informati e che non intervengono cominciano ad aggravare moltissimo la loro posizione infatti il giorno 20 novembre ho ricevuto una lettera dal cardinale parolin segretario di stato del vaticano che poi non è un vero cardinale perché di nomina bergogliana però comunque di fatto ricopre la la carica di segretario di stato e parolin mi ha ringraziato per il report sull'inchiesta che gli avevo inviato a luglio quindi non si è riferito ancora alla petizione ma intanto ha detto di aver ricevuto l'inchiesta codice ratzinger mi ringraziava cordialmente mi ringraziava mi salutava cordialmente ora questo chiaramente è un gesto dall'enorme significato politico voi potete immaginare non so il primo ministro inglese che risponde con questa cordialità a un giornalista che gli manda un'inchiesta sul fatto che magari re carlo terzo è un usurpatore ha fatto fuori sua madre ne ha preso il posto insomma capisci bene l'attico che è qualcosa di molto molto grave molto molto importante quindi io credo che il cardinale parolin abbia perfettamente colto la situazione che stia cominciando a riposizionarsi per così dire per una eventuale dipartita di bergoglio la cosa fondamentale che riguarda tutti i cattolici è che il prossimo conclave alla fuoriuscita di bergoglio assolutamente deve essere di nomina pre 2013 assolutamente non può annoverare altre dignità ecclesiastiche come come ricorda la universi dominici gregis quindi falsi cardinali bergogliani che non sono cardinali non possono partecipare e se vi partecipano viene eletto un altro antipapa mi spiego sì io ho una due domande provocatorie la prima è che l'attuale papa è riconosciuto da tutto il mondo da tutti i capi di stato perché lui in pratica è un capo di stato è riconosciuto come tale come capo di stato vaticano e in più c'è il libro di monsignor ginswain che era il segretario personale del papa benedetto xvi che nel suo libro nient'altro che la verità sembra che sembra di smentire queste accuse questa diciamo teoria complotistica chiamiamola così per convenzione sì sì allora io sul libro di monsignor ginswain ho già trattato e ho forti motivi di ritenere che sia stata un'operazione voluta dai bergogliani perché dico questo perché che ci sia del malanimo tra ginswain e bergoglio è un fatto chiaro sotto gli occhi di tutti praticamente ginswain è stato esiliato in germania senza alcun incarico si era creata molta attesa su questo libro di ginswain ed è qualsiasi giornalista italiano può testimoniare che poco prima della sua uscita libro che non è stato autorizzato da papa benedetto attenzione poco prima della sua uscita lo stesso ginswain voleva ritirarlo aveva chiesto all'editore di ritirarlo per non meglio specificati motivi invece il libro uscito lo stesso ma soprattutto prima della sua uscita del cartaceo sono stati diffusi i pdf del libro in un modo massiccio tanto che io l'ho ricevuto persino da lettori comuni non solo da colleghi giornalisti ma anche da persone comuni allora perché diffondere in questo modo così massiccio il pdf del libro di ginswain danneggiando sia l'autore che l'editore a me sembra evidente che questa questo libro sia stato manipolato dai bergogliani per questo ginswain voleva ritirarlo che siano state aggiunte delle parti naturalmente tese a smentire il sottoscritto e naturalmente a difendere bergoglio infatti monsignor ginswain dice delle cose contraddicendosi in modo palese per esempio dice che papa benedetto aveva sempre celebrato la messa in unione con papa francesco peccato che qualche mese prima quando la lettera di un di un prete che si chiama ariel levi di gualdo inviata a domi nutella una lettera falsificata al nome di ginswain in cui si diceva che papa benedetto celebrava la messa in unione con francesco ginswain l'aveva smentita in modo totale aveva detto la lettera è un falso e una menzogna una pura fake news ora che la lettera sia un falso in italiano si intende che la lettera è un documento ma se noi diciamo che è una menzogna e una pura fake news vuol dire che anche il contenuto era falso e in questa lettera si diceva che papa benedetto celebrava in unione con francesco quindi a ottobre scorso novembre quando è stato ginswain aveva smentito in modo totale come fake news il fatto che papa benedetto celebrasse in unione con francesco e poi in questo libro stranamente si dice tutto il contrario tra l'altro questo libro è stato molto criticato anche dal professor luciano canfora per quanto riguarda ad alcune ricostruzioni sulla lingua latina è stato contestato dal professor gotti tedeschi presi ex presidente dello ior la banca vaticana e anche il decano dei vaticanisti marco tosatti ha detto che era un libro diciamo che sembrava essere stato scritto per per far contento qualcuno diciamo secondo paradigmi che noi non conosciamo quindi il fatto che monsignor ginswain possa dire questo quello non ha alcun valore perché nel momento in cui si parla di una questione del genere è chiaro che il suo segretario rimasto nelle mani dell'antipapa può essere stato minacciato ricattato costretto in qualche modo a difendere l'antipapato quindi è l'ultima persona al mondo a cui bisogna dare retta semmai il segretario di papa benedetto diventa credibile solo quando dice qualcosa contro la vulgata nel pensiero comune e non quando invece si adatta alla versione bergogliana è evidente no se papa benedetto era prigioniero e ginswain era il segretario del prigioniero è ovvio che questo segretario anch'esso è vittima di una costrizione di un impedimento di una minaccia di qualcosa del genere ripeto comunque anche monsignor ginswain non conta nulla in questa questione perché tale questione deve essere risolta dagli organi giudiziari del vaticano e dal collegio cardinalizio quindi che oggi ginswain dica per esempio ieri è stata tirata fuori ad arte ad arte una vecchia intervista del novembre 2022 di ginswain in cui si dice che papa benedetto non si è mai pentito di essersi dimesso e in questa intervista però si dice anche che papa benedetto fu addolorato di apprendere il tradizionis custodes e di cioè il motu proprio di bergoglio che ha annullato il summorum pontificum il motu proprio di ratzinger che liberalizzava la messa antica e allora come come si spiegano queste due cose da un lato non si è pentito delle dall essersi dimesso però dall'altro gli si era spezzato il cuore per il tradizionis custodes è chiaro che l'interpretazione di questo non si è pentito per essersi dimesso deriva dal fatto che con le sue particolarissime dimensioni cioè col suo essersi fatto collocare in sede impedita papa benedetto ha reso antipapa bergoglio e quindi è naturale che non si sia pentito ad alcuni di voi questi discorsi magari potranno sembrare cose un po cervellotiche un po strane eccetera ma ho appena scoperto che ratzinger non ha inventato nulla nel senso che lui si è avvalso di un concetto della teologia morale che si chiama restrizione mentale larga cioè quando una persona si trova in difficoltà minacciata sotto appunto nelle mani di un oppressore che gli vuol far dire a tutti i costi la verità e lui non può dire la verità secondo il concetto della teologia morale di restrizione mentale larga si può ricorrere a dei modi come posso dire intelligenti per lasciare che il nemico creda quello che vuole ma nello stesso tempo per dire la verità e questo concetto della restrizione mentale larga è alla base di tutto il codice ratzinger cioè questo particolare stile comunicativo con cui papa benedetto è riuscito a non mentire mai secondo uno sforzo veramente sovrumano come quando per esempio dice il papa è uno solo non ci sono due papi tutti sono portati a pensare che lui si riferisca a Bergoglio no papa è uno solo è Bergoglio ma lui non lo dice questo lui intendeva il papa è uno solo cioè sono io ma non lo può dire apertamente e quindi lascia che chi non ha orecchie per intendere creda a quello che vuole è qualcosa di veramente straordinario è una un'acquisizione questa sulla restrizione mentale larga che spiega completamente il codice ratzinger tra l'altro permettimi di sottolineare vlatko che la petizione inviata ai cardinali è stata pubblicata anche in lingua croata ti sarò grato ti sarò grato se vorrai diffondere il link perché nel link sono contenuti degli articoli importantissimi anche tre documentari di esire intelligenti pauca e redder azioname che spiegano tutta la questione perfetto la mettiamo nella descrizione di questo video e la lingua croata è comprensibile per la diciamo per il pubblico macedone quindi sarà molto interessante ad approfondire questo argomento Andrea vorrei chiederti una mia personale impressione quest'estate sono stato a Milano e davanti al Duomo di Milano mi è venuta la sensazione che la chiesa cattolica odierna proprio non ha niente a che fare con l'aspetto spirituale non ho visto fedeli ho visto soltanto dei turisti che venivano a pagare un biglietto come in cinema o teatro dimmi se la mia impressione è sbagliata che questa chiesa ormai ha smesso di avere l'aspetto spirituale e si sta spogliando di tutto quello che significa spiritualità cristiana e va verso una versione laica quello che dovrebbe essere la fede cattolica oppure l'esatto opposto che la fede cattolica va verso quel movimento movimento dove si Bergoglio è uno dei primi che lo vuole fare a unire tutte le religioni a creare una religione universale chiamata Chrislam che va a mano a mano con le ultime tendenze di transumanesimo l'intelligenza artificiale e così via sì certamente questa non è più la chiesa cattolica ecco per per fornirvi un un'immagine che secondo me è efficace ecco molti film horror di fantascienza si assiste per esempio a un alieno che entra nel corpo di un uomo e lo rende come uno zombie il corpo dell'uomo è sempre quello a vederlo magari sembra anche normale ma quell'entità che si è instaurata dentro di lui lo controlla lo comanda lo governa e lo porta a fare delle cose orribili la chiesa è zombizzata zombizzata da una gerarchia illegittima apostata gnostica fondamentalmente è satanista perché l'agnosi non è altro che considerare Cristo Lucifero cioè apparentare la figura di Cristo con quella di Lucifero che spinge l'uomo a ribellarsi al dio creatore che però è cattivo e maldestro quindi è una chiesa veramente che non è più lei e che deve essere liberata da questo parassita attenzione però perché diciamo questo processo non ha coinvolto la struttura giuridica della chiesa non ha contaminato tutto sebbene una falsa gerarchia illegittima si sia impossessata della chiesa e stia propugnando una dottrina chiaramente anticristica in cui deve essere distrutto qualsiasi elemento spirituale cristiano cattolico per mettere ecco papa benedetto la definiva una dittatura del relativismo che non riconosce nessun limite se non il proprio io e le proprie voglie cioè è l'uomo che si fa dio è la chiesa dell'uomo che si fa dio e non è più la chiesa del dio che si è fatto uomo quindi tutto si è rovesciato però attenzione la chiesa deve e può essere recuperata deve essere liberata da questo organismo malvagio che la che se ne è impossessata e attenzione perché purtroppo il mainstream propone da anni da almeno un decennio la figura di bergoglio come quella di un papa buonissimo misericordioso amico dei poveri eccetera ecco questo è lo zucchero dolce il vinello dolce con cui sono riusciti a catturare il favore delle masse ignoranti tutti i commentatori prega c'è una cosa provocatoria qui che si propone immediatamente noi sappiamo che i gesuiti giurano una fedeltà assoluta al loro generale visto il fatto che il papa è un gesuita la questione è chi comanda adesso il generale dei gesuiti o il il papa benedetto il papa bergoglio no no io credo che nella chiesa bergoglio eserciti comunque un potere assoluto tanto che nemmeno il segretario di stato ha alcun potere generale dei gesuiti è un uomo di paglia diciamo uno che non conta quasi niente uno che l'ultima volta che ha detto qualcosa in pubblico ha detto che ai tempi di gesù non c'erano i registratori quindi questo diciamo vi fa capire la compagnia di gesù da che parte stia oggi no nella chiesa bergoglio comanda come un dittatore sudamericano ma lui stesso non è libero lui stesso prende ordini e lo vedete da chiari segnali per esempio quando si inchina biden come se fosse un suo superiore o quando lo stesso macron gli dà gli schiaffetti sulla faccia per fargli buffetti oppure che lo fa aspettare in anticamera ecco questi sono tutti i messaggi che ci fanno capire come lui oppure per esempio come sia andato a rendere omaggio al presidente della repubblica italiana napolitano che un libro di un ex massone come gioia e magaldi ha detto che era iscritto una loggia potentissima americana chiamata tri ice fin dal 1978 e bergoglio è andato a rendere omaggio a napolitano non si è fatto il segno della croce ma più volte si è messo la mano sul cuore un gesto tipico massonico e questo gesto si fa in presenza di un superiore quindi evidentemente napolitano che non ha mai smentito queste affermazioni sul suo conto da parte di un ex massone insomma ognuno si può fare l'idea che crede quindi i suoi superiori gli danno degli ordini e bergoglio deve attuare un programma di distruzione sistematica della chiesa ora il piano diciamo questo piano è talmente evidente che lo capisce anche un bambino il problema è la parte tradizionalista perché c'è una parte tradizionalista che odia ratzinger e che mai e poi mai sarebbe disponibile a riconoscergli questo merito gigantesco di aver spacciato la massoneria ecclesiastica e che oggi addirittura difende bergoglio o fa finta di combatterlo come per esempio sta facendo Monsignor Viganò il quale nonostante sia stato da me contattato per gli ultimi tre anni in modo continuo gli ho mandato centinaia di articoli il libro lettere aperte lettere private cercato di farlo avvicinare da varie persone per spiegargli la situazione lui non ha mai aperto il confronto sulla sede impedita ma l'ha sempre liquidata in due parole sta cercando di nasconderla di censurarla sponsorizza libri che parlano contro la sede impedita che invece è l'unica strada che consente di rimuovere bergoglio da un momento all'altro viceversa lui vi porta su false strade false piste per esempio un impeachment per eresia di bergoglio è impossibile perché non esiste una giurisprudenza per deporre il papa eretico oppure ha tirato fuori una questione circa le irregolarità nel conclave del 2013 ritenendolo legittimo anche queste presunte irregolarità difficilmente dimostrabili possono essere sanate dalla cosiddetta accettazione pacifica dei cardinali che ormai insomma hanno accettato bergoglio e quindi passa tutto in cavalleria l'unica cosa che non può essere sanata da nessuno è un conclave invalido convocato a papa non morto e non abdicatario ed è quella proprio la strada che monsignor viganò sta sta censurando nascondendo va a dire in giro che va a dire in giro che io appartengo alla scia io che non parlo nemmeno inglese la cosa la cosa mi lusinga diciamo l'idea di far parte della scia mi diverte anche però ecco che queste calunnie vengano da un arcivescovo la dice lunga sul personaggio cosa c'è in paglio andrea voglio capire qua si tratta delle ricchezze della chiesa perché le sono ricchezze enormi oppure si tratta di cose di cose più profonde più spirituali scusami la perplessità ma io non non capisco cosa ci impaglio in questa vicenda ma per quanto riguarda i tradizionalisti o in generale in generale allora quello per esempio che i bergogliani credono di aver ottenuto o cosa è quello che diciamo i sostenitori di papa ratzinger vogliono riportare indietro nella normalità allora i bergogliani sono passati in blocco all'agnosi dal punto di vista spirituale loro vogliono demolire quelle regole che che impone la dottrina cattolica soprattutto in materia morale sessuale c'era vogliono fare la bella vita vogliono essere potenti e avere potere denaro successo piaceri e fare quello che vogliono questo diciamo per quanto riguarda il clero bergoglio ha un obiettivo che riguarda la sua realizzazione cioè lui non è non è cattolico e anticattolico vuole distruggere la chiesa con tutte le sue forze vuole distruggere la fede cattolica e chi lo comanda ha lo stesso interesse vuole demolire il cristianesimo ma non solo il cristianesimo anche le altre religioni e per questo il sincretismo è uno strumento non per c'è non tanto per creare una nuova religione quanto per distruggere tutte le religioni perché se tu cerchi di fare un'unica religione che metta d'accordo tutti insieme inevitabilmente hai demolito l'identità è un po quello che stanno cercando di fare con l'immigrazione no eh immigrazione selvaggia in europa in modo da distruggere le identità nazionali non è che vogliono islamizzare l'europa può creare un'altra identità sostituire l'europa cristiana con un'europa islamica no loro usano l'islam per distruggere demolire e annacquare diluire le identità dei popoli e produrre questo nuovo uomo eh transumano che è eh senza cultura senza forza senza patria senza armi senza denaro eh senza eh autonomia senza famiglia senza sesso senza identità sessuale senza lingua eccetera eccetera in modo che queste masse possano essere facilmente dominate da un'elite eh di illuminati ecco sembra un film di fantascienza ma questa gente che è completamente folle ha davvero questi questi obiettivi questo è quello che vogliono i bergogliani i tradizionalisti vogliono continuare a rimanere nella loro piccola enclave legata alla messa in latino un formalismo vuoto completamente privo di contenuti perché la messa in latino va benissimo io diciamo la se 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 fossi nel papa del futuro eliminerei la messa in nuovo sordo e tenerei solamente quella tradizionale ma la messa deve essere in unione con il papa e questi tradizionalisti invece che stanno lì a perdere tempo sulla carta gloria il cero la cappa magna i merletti a a curare tutti questi aspetti esteriori poi si perdono il contenuto cioè la fedeltà alla chiesa il vero papa eccetera perché perché loro non amano il papa loro odiano tutti i papi post conciliari quindi il loro obiettivo è solo quello di continuare a rimanere in un piccolo regno una piccola enclave una riserva indiana dove continuare ad avere le loro prebende i loro spazi eccetera quindi non vogliono salvare la chiesa e anche loro sono contro dio sono contro gesù cristo purtroppo non tutti i tradizionalisti ma buona parte di questi che fanno la guerra ai veri cattolici e ai veri patrioti che invece sostengono papa benedetto la sede impedita quindi attualmente la sede vacante e che stanno cercando di ripristinare la legalità nello stato vaticano perché sono ben consapevoli che se crolla la chiesa non ci sarà nessun baluardo contro lo strapotere di questi ipotentati in mano al diavolo questo che hai detto va molto a richiamare diciamo la il gruppo di davos sicuramente che proprio tutte le idee che hai menzionato sono le idee proclamate promosse da dal gruppo di davos da world economic forum che è proprio c'è l'idea di non avere niente essere felici quindi essere zombificati se posso dire e infatti caro valatco e lo sponsor del capitalismo inclusivo è proprio bergoglio se tu vedi ci sono le pubblicità del capitalismo inclusivo non avrai niente e sarai felice che lo sponsor è proprio bergoglio cioè qualcosa di talmente evidente io ho capito che il panorama è spaventoso però un panorama spaventoso che è evidente è sotto i vostri occhi allora se voi non lo volete vedere è peggio perché se lo vedete vi farà meno paura e magari potrete fare qualcosa potrete attivarvi magari firmando la petizione o facendo divulgando quello che ha fatto papà benedetto la seduta impedita eccetera perché poi non c'è niente di più forte della verità è come la favola di anderson bambino che dice il re è nudo quando si rivela qualcosa che sotto gli occhi di tutti poi la menzogna viene sconfitta esattamente davos world economic forum schwab questi sono tutti amichetti loro fanno parte di un unico blocco e sono un pericolo per la nostra sopravvivenza è quella dei nostri figli come dice il vangelo la verità vi libererà esatto la verità libererà per però bisogna ognuno è necessario che dia un piccolo contributo è perché se tutti pensano che poi la soluzione si risolva da sola o che basti pregare si pregare è importante però non basta solo quello bisogna fare attività social volete fare qualcosa divulgate tre documentari su sui social non sono remunerati quindi io non ci prendo una lira da quei documentari e li ho messi a disposizione di chiunque anzi se il tuo canale li vuole trasmettere è a disposizione sono a disposizione non c'è volentieri dovrei fare dovrei fare solo i sottotitoli se ho il permesso li pubblico sul mio canale sì 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 ma credo che ci siano già in qualche lino adesso non mi ricordo se ci sono già in croato posso vedere li trovi sul mio canale youtube sono almeno 89 lingue vedi quella che più ti soddisfa se no puoi mettere i sottotitoli senza problemi sì se ci sono in croato sarebbe perfetto andrea non vorrei trattenerti ancora tanto la situazione attuale perché ormai il papa ratzinger papa benedetto sedicesimo non c'è più c'è questo impostore in che in che direzione si sta muovendo la situazione e in a che punto siamo in a quasi un anno della della morte del vero papa e appunto l'otto novembre è stata depositata questa petizione e chiaramente diciamo l'otto novembre sono passati è passato quasi un anno no 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 l'otto novembre di adesso ok ok l'otto novembre di adesso quindi chiaramente sarà necessario un certo tempo tecnico però la petizione è rimasta aperta proprio perché bisogna continuare a bombardare di di firme i cardinali finché non intervengono questo è fondamentale ecco perché è importantissimo che si continui a firmare per esercitare una pressione e quindi anche garantire un sostegno ai cardinali questo è fondamentalissimo va benissimo andrea io non vorrei trattenerti ancora tanto ti ringrazio di questa chiacchierata rimarremo ancora in contatto e ci aggiorneremo sulle novità ti ringrazio un'altra volta e se vuoi concludere con un messaggio prego grazie ti ringrazio moltissimo puoi attingere in modo assolutamente libero dal mio canale dei miei articoli per divulgare nel tuo splendido paese questi contenuti io non non posso diciamo sono già arrivato alla settantacinquesima conferenza qui in italia in un anno sono impegnatissimo quindi se tu vuoi farti l'attore di questi contenuti per la macedonia e l'area balcanica sarà una cosa meravigliosa e qualcosa che ti permetterà di entrare nella storia perché stiamo vivendo qualcosa veramente di millenario e quindi mi rivolgo anche a tutti i nostri ascoltatori partecipate perché come direbbe uno slogan pubblicitario l'apocalisse passa una volta sola è così io sono convinto che viviamo nei tempi straordinari forse dei tempi che proprio richiamano il messaggio della dell'apocalisse quindi rendersi partecipi rendersi attori di queste attività e farsi della parte diciamo parte giusta parte buona è essenziale grazie andrea grazie vlad con caro saluto a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti